Allora, per amici l'omaggio a un nostro amico, ecco, abbiamo questo telefono in tinta, come i bellissimi costumi di Luca Sabatelli per questo balletto, pronto? Pronto! Chi è? Sono io, ciao! Celentano! Ciao Adriano! Allora, Adriano, hai visto questo balletto? Sì, guarda, il balletto è stato una canonata, a parte che Eter, insomma, per me è la più brava ballerina che c'è in questi ultimi quattro pianeti che abbiamo, poi le coreografie anche sono state, pochia che l'ha fatta? L'ha fatto Franco Miseria! Ah, Franco Miseria? Sì! Porca miseria, ma sai che bravo! No, veramente, guarda, io sono commasso! Senti, vuoi parlare con Eter? Sì, grazie! Ti devo salutare un momento? Ecco, stasera non ti ho fatto il regalo, ti ho regalato un pettino, invece ti regalo questo regalo, parli con Celentano, eh! Pronto, Adriano! Ciao Eter! Come stai? Sei stupenda! Senti, ti è piaciuto? Fantasso! Quando vieni in trasmissione? Ah no, sabato prossimo tu hai da fare? Eh, eh, no! Perché non vieni da noi? È buona questa! Da noi! Senti, perché non vieni da noi? Senti, ma tu sabato ci siete voi, io vengo! Noi ci siamo! Non ti ho chiesto se ci siamo! Se ci siamo! Noi ci siamo! Ecco, allora... Vieni da noi! No, se tenete libero un... Stiamo assieme una mezz'oretta! Allora vieni! Pronto! È cascata la linea proprio adesso? Adriano! Pronto? Eh sì! Pronto! Ti senti? Sì, ti sento! No, stavo dicendo, sabato tenetevi magari liberi un... Ci sono molti orbiti, no? No, no, se vieni tu! Ecco, appunto, non farmi nessuno! Allora, allora guarda! Allora, sabato prossimo l'unico ospite sei tu! Oh, bravo! Così mi piace! Così facciamo una bella chiacchierata, eh! D'accordo! Certo! Perché davvero un po' che non sto in silenzio! È vero! È il caso che tu ti metti a parlare finalmente? Sì, certo! Allora, sabato prossimo con Adriano Celentano? Ciao Adriano! Sì, d'accordo! Ciao! Un bacione! Ciao! Fantastico, ciao! Viene da noi! Da lui perché ho detto male! No, viene da noi! Verrà, sabato prossimo Adriano Celentano sarà con noi! Viva Adriano! A lei! Adesso, adesso, sentite un momento... Gli accordi di un'orchestra, è un momento magico quando l'orchestra... Ecco, sentite? Sono i violini che si accordano, un momento magico, perché c'è un artista che deve esibirsi. Quest'artista ci regala un piccolo concerto, tratto dal suo ultimo 33 giri. È il tema di Leonetta, dal film State buoni se potete, film che andrà in onda proprio su questa rete, il Rai 1, ai primi di dicembre. Il personaggio nostro ospite è Angelo Branduardi! Bravo! Bravo!